dagli atti degli apostoli in quei giorni paolo si recò ad erbe e a listra vi era qui un discepolo chiamato timoteo figlio di una donna giudea credente e di padre greco era assai stimato dai fratelli di listra e di iconio paolo volle che partisse con lui lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni tutti infatti sapevano che suo padre era greco percorrendo le città trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di gerusalemme perché le osservassero le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno attraversarono quindi la frigia e la regione della galazia poiché lo spirito santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di asia giunti verso la misia cercavano di passare in bitinia ma lo spirito di gesù non lo permise loro così lasciata da parte la misia scesero a troade durante la notte apparve a paolo una visione era un macedone che lo supplicava vieni macedonia e aiutaci dopo che ebbe questa visione subito cercammo di partire per la macedonia ritenendo che dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il vangelo acclamate il signore voi tutti della terra acclamate al signore voi tutti della terra servite il signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza acclamate il signore voi tutti della terra riconoscete che solo il signore è dio egli ci ha fatti e noi siamo suoi suo popolo e gregge del suo pascolo acclamate il signore voi tutti della terra perché buono è il signore il suo amore è per sempre la sua fedeltà di generazione in generazione acclamate il signore voi tutti della terra dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete del mondo ma vi ho scelti io dal mondo per questo il mondo vi odia ricordatevi della parola che io vi ho detto un servo non è più grande del suo padrone se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato non conoscono il l'attenzione Grazie.